Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session di martedì 5 luglio. Sono la 23.46, sono tornato da poco da Milano dove sono stato molto contento di incontrare alcuni di voi per un aperitivo interessante e devo dire che mi ha fatto veramente molto piacere vedere che alcune persone, riascoltando con attenzione i video che propongo, capiscono esattamente che cosa voglio dire facendo vedere determinate cose anche soltanto di sfuggita e comprendono a furia di studiare bene quale può essere il percorso di Bitcoin nel caso si supererà un determinato massimo. Facciamo il punto della situazione perché da un po' che non guardiamo il grafico giornaliero. Abbiamo raggiunto come da analisi entro i 336 giorni un minimo che ci ha portato a un punto fermo. Dopo questo minimo a 333 barre entro il tempo dato, ovvero entro il 18.6, abbiamo iniziato a salire per poi riscendere per poi risalire. Non abbiamo più violato per tanti giorni un determinato minimo, ovvero questo. Abbiamo iniziato un rimbalzo. Questo genere di rimbalzi possono sembrare poca cosa ma se combinati al lato inverso possono raccontarci tante altre cose interessanti. Se andiamo infatti a vedere il primo semestrale, l'inverso, l'inverso è un ciclo che parte da massimi, va sui minimi e torna su altri massimi, l'abbiamo concluso a 139 barre. Qui siamo arrivati solamente a quanto? Siamo arrivati a 99 barre. Con domani, ovvero tra poco, arriveremo a 100 barre. Arriveremo ovvero di poco oltre quello che è una durata minima di un tp4 semestrale inverso, il secondo, primo, secondo, che potrebbe avere una funzione interessante, ovvero quello di andare a chiudere tutto l'annuale inverso fatto da due semestrali. Per chiudere un annuale inverso, sapete perfettamente da regole, che ci serve un mensile inverso rialzista. Noi qui abbiamo avuto il primo mensile inverso, il secondo mensile inverso, il terzo mensile inverso e adesso andiamo a vedere piano piano che cosa succederà. Perché se andate a scomporre esattamente come abbiamo fatto per quanto riguarda i mensili lato indice, lato prezzi, anche quelli lato inverso, ci possono essere varie considerazioni che si possono fare. E guardate, ribadisco, nel tempo dato, dal 18 di giugno abbiamo iniziato a fare una salita, poi discesa, poi una salita. Come al solito utilizziamo uno strumento semplice per comprendere di che tipo di rimbalzo si tratta, perché avevo annunciato rimbalzo e nei tempi è stato rimbalzo. È un rimbalzo che nella prima parte ha sparato su bene, nella seconda ha fatto un ritracciamento forte, vicino, tra l'altro a un 78,6, quindi indica che potremmo essere di fronte a un ciclo neutro, ma che poi anche molto rapidamente ha ritrovato la via della salita, e tra l'altro in poco tempo. Ed è ritornato, per ora, come corpo e come teorica chiusura sopra il 38% di ritracciamento. Inverso, abbiamo avuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candele rosse, 8, 9, 10 candele complessivamente. Può esserci una centratura differente da quella di un T inverso? 1, 2, 3, 4, 5, difficile che qui abbia chiuso. Quindi siamo vicini, come dicevo, a che cosa? A una possibile discesa per chiusura di settimanale inverso, partenza di nuovo settimanale inverso, che quindi, se avremo una chiusura qua, poi farà così, come è che oggi? 1, 2, se facesse una salita di questo tipo, si vincolerebbe con il superamento del massimo di chiusura del primo T inverso, che può provare ancora a sparare verso l'alto per quanto tempo. E qui, con una bella finta ribasso, che è stata fatta nella tardi della mattinata e poi è stata completamente ribaltata, abbiamo avuto il nostro nono T-3 inverso. Possiamo dire che da qui può essere partito un settimanale inverso che si è già vincolato a salire a livello di prezzi? No, assolutamente no. Non abbiamo sotto un massimo nulla. Non abbiamo niente a livello di regole. Per cui questo è un anomalo, ma comunque tranquillamente compatibile con la situazione, nono T-3 inverso, che ha spostato determinati swing di inverso e che da qui è probabile che stia facendo partire o il decimo T-3 inverso. Quindi ultima possibilità domani di salire. Salire come? Se avessimo una conferma da uno swing di minimo che da qui sia partito un decimo T-3 inverso, si potrebbe provare un long, valutare un long sopra al massimo a 20.736 se avremmo ancora due candele piene sotto appunto questo massimo e poi si dovesse ritornare su. Relazione, vincolo, ripartenza, rialzo. E sarebbe interessante perché potremmo vedere dove arriveremmo rispetto a questo massimo che ha quasi chiuso un ritracciamento che è stato forte a un certo punto perché abbiamo fatto salita fortissima, poi discesa e poi siamo ritornati a salire tanto con Golden Cross annunciato, raggiunto, quasi negato e poi di nuovo ripiegato a salire. Per cui i punti da monitorare sono il massimo a 20.736 dollari se rimarremo ancora sotto il massimo stesso per almeno altre due candele, almeno come minimo. Ok? Può creare la condizione per la partenza di un decimo T-3 inverso o di un nuovo T inverso. Abbiamo ancora un giorno al massimo di potenziale salita più il giorno successivo con un massimo assoluto e una candela rossa che però apparterebbe al nuovo settimanale inverso. Oppure se da qui vorrà partire qualche cosa, un nuovo settimanale inverso dovremo iniziare a scendere decisi verso questi livelli qua, verso livelli a 19.289. Altrimenti non partirà un settimanale inverso. Per cui non è o si sale o si scende, come continuo a ripetere da tanto tempo, è regole che ci permettono di capire se si salirà, per quanto si salerà al minimo o medio o massimo, oppure regole che ci diranno se si continuerà a scendere nel caso si dovesse verificare una determinata condizione. È come nei programmi, if, then. Se succede questa cosa posso andare long per tot tempo, con un tot di target, anche eventualmente in termini di prezzo, ma se non succede non la faccio. Se invece succede un'altra cosa mi muovo in maniera differente, if, then. Non se non sale scende, se non scende sale. È tutto differente. Ma lo può capire soltanto chi studia. Hurst, Gunn, Candele, insomma la vecchia ciclica piuttosto che poi l'evoluta. chi non studia non capisce. È un ginepraio di T più, T meno, T tutto quello che volete. Ma va bene così, si fa una selezione all'ingresso nel canale. Perché come detto, in questo canale non ci interessano i turisti, non ci interessano i cacerati obbligati a ascoltare cose che non copiscono. A noi interessa creare un circolo virtuoso di trader che capiscono che da soli possono raggiungere determinati risultati. Insieme, con un unico obiettivo in testa, non certo di fare la centratura migliore del mondo, ma esclusivamente di guadagnare minimizzando le perdite, perché gli errori si fanno, è trading. Non conosco trader che non facciano errori. Ma limando e limitando gli errori, invece lasciando correre i profitti, ma non come frase fatta, ma con una tecnica operativa come quella dell'evoluta, allora si possono ottenere determinati risultati. Tante operazioni in guadagno, poche in perdita, limando anche il discorso delle perdite stesse. Ci siamo detti tutti, direi. Altre cose in particolare non ci sono da raccontarsi, anche perché nella realtà dei fatti, come al solito, probabilmente vedremo qualche movimento dalle 3 di mattina, io mi metto un bel allarme qua, sui 20.736, quindi facciamo così, 20.736 e vediamo che cosa succede. Anche perché, fatto un minimo, grazie agli swing possiamo sapere che cosa sta avvenendo e se siamo in una condizione piuttosto che in un'altra, che non è poco. Perché continuo a sentire soltanto analisi ribassiste, persino gente che parla di arrivare ai 3.500 dollari in breve. Per me questo è un rimbalzo, poi c'è stata discesa, ma poi c'è stato di nuovo rimbalzo e siamo quasi ritornati al 100% di salita che abbiamo fatto. E non ripeto, non abbiamo parlato ancora esplicitamente delle condizioni relative all'inverso. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata. La mia lo sarà sicuramente perché oggi è stata veramente una gran bella, bella giornata a Milano, anche se calda, ma ricca di incontri e di relazioni decisamente soddisfacenti. Buona serata a tutti!